levati, vai, vai, spostati, spostati, è tutto ripreso, è tutto ripreso, vai vai, ho due corsie, non è un parcheggio, ma che cazzo mi frega, non è un parcheggio, vai ma chi sei che sono i corsi? sono uno che può suonare, no, tira fuori il piesserino, non c'è il piesserino, che l'altro giorno pure stavi qui a suonare, adesso scendi e mi dici chi sei, 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 sono uno che vuole, ti devi qualificare, sono uno che vuole passare su questa corsia, sono uno che vuole passare su una corsia, scendi dalla macchina, 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 non toccare macchina guardia se stai da guardia non so nessuna guardia sono uno che vuole passare sulla parola guardia vai a fare il culo vaffanculo ogni giorno passate io voglio passare sulla strada voglio passare sulla strada devi tirare fuori il tesserino non c'è nessun tesserino fanno staccare mi da sta macchina a merda